ciao ragazzi benvenuti a un nuovo video del canale stavolta siamo su Ace Combat 7 un gioco che mi è piaciuto molto e ce l'ho avuto da molto tempo più di Fortnite e vorrei giocarlo assieme a voi ricordatevi di lasciare like iscriversi al canale e di attivare la campanellina beh ricordi l'inissione 1 per inizio questo è il brusco il sistema di comunicazione si stavolta immediatamente dopo noi stiamo cercando che hanno attaccato il canale qui è la mia missione è possibile che l'inissione c-spire agreement è stato scoperto per la prima volta in più una decada come oggi, la Fort Grazie Air Base Squadron di IUPF è stato preso in alto tutti i membri che si sono chiamati a scoprire inizio immediatamente allora l'operazione di supportini e quindi usare le storie si possono portare le solidi in alto i che gli animali로 stavolta se si fossero allero più ultimi sono un' 연iere davanti dove si stavolano che può essere possibile un'altra ha avuto in centro un'altra ha avuto in giro tutte le uniti branchate e eliminate la lontana unidentifiche attacchando la base non c'è una misura Sì, grazie Gioco, questo avevo capito che bisogna eliminare i bombardieri F-16 Ah, e nella campagna principale sarebbe Squadriglia Strider L'allarme del ride Mage 2 Colum squadron take off, link to Skykeeper, hurry Mage squadron Bailo F-16 Trigger, call sign is Mage 2, verify and read back Mage 2, clear for take off Situation tight It's a horrible welcoming party Ah, visto che la prima missione sarà tipo un tutorial, più o meno Non fate caso alle scritte in alto, ma è perché Se cominciavo la campagna da praticamente da dove ero rimasto io Non ci capivate niente perché Come dire Era l'ultima missione E quindi non sapeva la storia Non sapeva la storia Ma quando è tempo non cerco di lavorarci sempre Prima è bello salvo, ma è giusto Ah, non, due forti salvo Non è buono, Mage 2 Trigger, switcha il radar, vedete se puoi trovare l'enemio LF- training ... È un termine di mieli Secondo L'arberfuel storage è in attacca, chiede per un'altra round. All'escorts far up per un'altra attacca, il punto è 835. L'arberfuel storage è in attacca, chiede per un'altra attacca. L'arberfuel 3 è in attacca, chiede per un'altra attacca. L'arberfuel è in attacca. L'arberfuel sono stati benessi. L'arberfueli sono stati benessi. L'arberfuel sono stati benessi. L'arberfueli sono stati benessi. Che non si tratta. Che non si tratta. E' bella fredda. L'arberfuelo non si tratta di scuola. Sì, non mi ricorda il tuo spettacolo speciale. È tutto, è molto molto, ma è semplice. Il bomba è downato, è stato fatto, mage 2. Non è troppo shabby, mage 2, hai ancora un po' più lungo, figlio. I'll give you some pointers back at base, se si può fare in una base. Oh i bombardieri, perchè? Non ho manco visto se è partito il missile Ho distrutto No, quello non è importante, i bombardieri In effetti sono uguali ai droni soltanto Che sono da combattimento, i droni sono... Non vorrei dire sbagliato, però mi sembra che i droni siano per missioni di scuola Questa è un'altra scuola Questa è un'altra scuola bombardati. Adesso che ho questa missione di sentire dei bambini, io mi immagino. E se sono talmente piccio che uno va sopra l'altro, quello sopra sgancia le bombe a quello sotto, esplode. E in una volta nella campagna principale mi è capitato che il bombardiere stava comportando un obiettivo e io ci sono andato sotto e mi sono preso le bombe e stranamente non sono esploso. Cioè sì, sono esploso ma non morto. L'aereo era ancora con lama... mapeam solve... mapeam e si, 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 che si, si, si. Inducazionellazione a Druida. Perdiamo l'intensazione solo. Esmerdoingai di piglio, riprenderevo po' come one piece you hear yeah I'm gonna side with the boss man on this going squadra this is HQ did you confirm any drones what's the deal with all the drones column one return to base a report for debriefing I am princess rosa cassette delice of the kingdom of arugia ah si me la ricordo la ricordo però nella campagna principale non è apparsa i bet